Bo! Bo! Bo sei con noi! Ciao amici! Lui è Daisy e io sono Bo! Il mago! Siete pronti a partire? Bo sei con noi! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Tutti insieme andiamo dai! Un movimento è via, guidate l'energia E poi salire su! La bo potenza è qui, se bella ti è così Bo 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 sei con noi! Che c'è da fare stai, ti aiuteremo noi Muovitivi e anch'io lo farò! Non smetteremo mai, ci muoveremo e poi La bo potenza riceverò! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Tutti insieme andiamo dai! Massima bo potenza! La pulce sudiciona Ciao amici, meno male che siete qui! Qualcuno ha gettato sporcizia in tutto il castello! Era praticamente ovunque! Ecco fatto! Era proprio molto sporco, non è vero Daisy? Sporchissimo! Sporchissimo! Oh no! Altra spazzatura! Dobbiamo scoprire al più presto chi sta facendo questo disordine orribile! C'è soltanto una persona che può saperlo! Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire! Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille amici miei! Ma vi avverto! Bisogna impegnarsi molto per riuscirci! Dobbiamo entrare nella nostra bozzona! La bozzona! Coraggio amici! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere! Spostate quei giocattoli e tutto il resto! Così entreremo in azione presto presto! Create la vostra bozzona! Ci siamo quasi! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra bozzona! Puntate il dito in aria! Così! Adesso ruotatelo per benino! Continuate a ruotarlo! Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza a brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima boh potenza! Il mago, sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Boo! Dovreste proprio riordinare la stanza! Non abbiamo fatto noi questo disordine, mago! Ci chiedevamo se tu sapessi chi è stato! Chi potrebbe essere stato? Fatemi vedere! Lo temevo! È la pulce sudiciona! La pulce sudiciona? Chi è? La pulce sudiciona adora sporcare! Infatti gira il mondo ad imbrattare! Più sporca, più è contenta! E a riciclare non sta mai attenta! Amici miei, questo non va affatto bene! Con la pulce sudiciona in giro il mondo intero presto sarà coperto di spazzatura! C'è soltanto una cosa da fare! Trovare la pulce sudiciona e farla smettere di insudiciare! Sì! Per trovare la pulce sudiciona dovrete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero tre troverete ciò che cercate! Ecco! Guardate! La pulce sudiciona! È una vera sporcacciona, non c'è dubbio! Trovate quelle tre porte e troverete la pulce sudiciona! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Quindi bisogna trovare tre porte! Per far apparire la prima porta dobbiamo correre sul posto! Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre! Poi correte con me! Uno... Due... Tre... Via! La camera delle porte! La camera delle porte! Coraggio amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare... O camminare! O camminare! Ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurando la mia energia! Correte con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima bo' potenza! Massima bo' potenza! Forza amici! Correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! Un secchio della spazzatura! Oh! Basta con la spazzatura! È chiusa! Ci serve la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una torre! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Sulle braccia tendiamo! E... Saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Oltrepassiamo la porta del secchio della spazzatura! Andiamo! Oh no! Quella pulcisudicione è arrivata anche qui! Guardate che confusione ha combinato! Dobbiamo assolutamente fermarla! Mamma mia! Vedete la prossima porta da qualche parte? Guarda! 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 Eccola lì! Si trova in fondo a questo vicolo! Credo proprio che sarà super facile! I secchi della spazzatura stanno rotolando all'impazzata! Come faremo a superarli in questo modo? Benvenuti nel vicolo dei secchi della spazzatura! Benvenuti nel vicolo dei secchi della spazzatura! La pulcisudicione ha ribaltato i secchi che volano in giro come rami vecchi! Per raggiungere la porta è questo il trucco! Saltateci sopra e lasciateli di stucco! Mi chiedo come faremo a saltare sopra questi secchi che rotolano! Per superare il vicolo dei secchi della spazzatura dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei! Potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi quale animale dovremmo imitare per saltare su questi secchi? Un piccolo insetto che cammina? Un canguro che salta? O un gatto dal passo furtivo? Un canguro che salta? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per superare i secchi della spazzatura dobbiamo saltare, saltare, saltare come fanno i canguri! State a guardare me! Che bei salti, Daisy! Diventiamo canguri saltellanti anche noi! Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre! Poi fate come me! Uno Due Tre Via! Forza canguri saltatori! Piegate le ginocchia e poi in alto saltate! Evitate i secchi e vedrete in fondo arrivate! Continuate a saltare! Mi raccomando! Proprio come fanno i canguri! Oh oh! Mi serve altra energia! Fate come i miei amici miei! Quando insieme a me vi muovete energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima boh potenza! Continuate a saltare! Come faccio io? Siamo quasi arrivati alla porta! Continuate a saltare amici miei! Ce l'abbiamo fatta amici! Abbiamo attraversato il vicolo dei secchi della spazzatura! Sì! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Forza! Vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio amici! Ballate con noi! Davvero un bellissimo ballo amici miei! Ah! Guarda! La seconda porta! Un barboncino! Un barboncino su un'altalena! Una cosa che non si vede tutti i giorni! È chiusa! Ci offriré un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Sulle braccia tendiamo! E... salchiamo! Sì! Presa! Grazie mille amici! Coraggio! Oltrepassiamo la porta del barboncino! Andiamo! A quanto pare la pulce sudiciona è passata anche qui! Contenitori di succhi vuoti! Dobbiamo assolutamente trovare questa pulce sudiciona e farla smettere di sporcare ogni cosa! Per caso voi vedete l'ultima porta? Eccola lì! Coraggio amici miei! È ora di entrare in azione! I barboncini! I barboncini! Deve essere il loro parco giochi! Ma ora è pieno di spazzatura! Poveri barboncini! Perché questi barboncini non ci fanno passare? Benvenuti al parco giochi dei barboncini I barboncini vorrebbero giocare, ma c'è troppa sporcizia a ingombrare I contenitori devono essere schiacciati, così potranno essere tutti riciclati Come caspiterina faremo ad appiattire tutti questi contenitori? Per appiattire i contenitori dovrete imitare un animale Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi quale animale dovremmo imitare per pestare i contenitori ed appiattirli? Un elefante che calpesta? Un verme che striscia? Ho una scimmia che si arrampica Un elefante che calpesta? Attima scelta! Per appiattire tutti questi contenitori dobbiamo pestare, pestare, pestare i piedi come fa l'elefante State a guardare in me! Daisy è un super pestatore! Forza, mettiamoci a pestare i piedi anche noi! Siete nella vostra boggiana? Bene! Ora conto fino a tre Poi fate come me Uno Due Tre Via! Coraggio, amici miei! Pestate! Prima con un piede Poi con un altro Appiattite i contenitori È il modo più scaltro Datevi da fare! Coraggio, amici! Pestate come fanno gli elefanti enormi! Oh, oh! Ho poca energia! Pestate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza a brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massima bo' potenza! Forza, amici miei! Sono quasi tutti schiacciati! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo ripulito il parco giochi dei barboncini! Ci siamo riusciti! Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici! Ballate! Davvero un meraviglioso ballo, amici miei! Credo che quel barboncino stia tentando di dirti qualcosa, Daisy! Secondo me vuole che tu metta quel contenitore nel secchio! Amici miei! Quello deve essere un barboncino porta-rigniuti! Che dà la spazzatura da buttare nel secchio! Meglio portarlo con noi, Daisy! Non si sa mai! Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! La pulcia sudiciona! Non è chiusa! Coraggio, amici miei! È ora di impedire a quella sporcaziona di ricoprire tutto il mondo di rifiuti! Amici miei, indovinate un po' chi vive qui! La pulcia sudiciona! Eccola lì! Che confusione che c'è! Quella pulce non sa che non dovrebbe sporcare Nessuno glielo ha mai insegnato Ci vorrebbe qualcuno accanto a lei che le ricordassi ogni volta di buttare la spazzatura nel secchio Ma chi potrebbe essere? Desi, non posso giocare con il tuo barboncino porta rifiuti ora Aspetta un momento Il barboncino porta rifiuti Le riporterai rifiuti finché non avrai imparato a buttarli nel secchio Bravo, draghetto Desi Sei un vero genio Datti da fare Amici, state a guardare Funziona! Sta mettendo i rifiuti nel secchio Così la piccola pulce sudiciona non insudicerà più Ecco, il nostro castello è di nuovo bello pulito Ciao, ciao spazzatura Ci siamo dati davvero molto da fare oggi amici Abbiamo insegnato alla pulce sudiciona come si buttano via i rifiuti Grazie a voi! Siete ancora nella vostra bozona? Allora facciamo un altro ballo di boe Il ballo di boe più sfrenato di tutti Ci siamo riusciti Anche grazie a voi È ora del ballo di boe Ballate con noi Forza, vediamo che ballo sapete fare poi Coraggio amici miei e ricordate continuate a muovere via e sempre in azione! Grazie a tutti! Grazie a tutti.